Quarta domanda determina il tempo che l'aspira impiega ad attraversare completamente il magnete e calcola la velocità che ha dopo averlo attraversato. In questa immagine ho disegnato il vagone, visto di profilo, questo è il vagone, questo è il livello del terreno, questo verde è il magnete quadrato appoggiato a terra. Qui si vede la faccia davanti del vagone che inizialmente viaggia a velocità V0, 20 cm al secondo, ha sempre viaggiato di moto rettilene uniforme fino a quel momento. All'istante 0 entra dentro al campo B generato dal magnete e comincia a rallentare, infatti vediamo che la velocità cala, V è la velocità che il vagone ha in un istante generico mentre sta passando sul magnete, V' invece è la velocità d'uscita che sarà ancora minore, da quel momento in poi la velocità V' si manterrà costante, quindi il moto tornerà ad essere rettilene uniforme con una velocità V' minore della velocità V0 d'ingresso. Per rispondere alla domanda del problema non basta conoscere l'andamento della velocità, bisogna pure conoscere la posizione X del vagone in funzione del tempo. Questo perché dobbiamo utilizzare la condizione che il vagone, la spira, deve attraversare completamente il magnete, quindi deve percorrere un tratto lungo 5 cm. Questa informazione non la possiamo utilizzare con la formula della velocità, ci serve invece l'andamento della posizione della spira nel tempo, proprio per metterci poi X uguale a 5 cm, attraversamento completo del magnete. Quindi dobbiamo calcolare la funzione X di T, integrando la formula della velocità. Infatti la velocità è X punto, cioè quanto rapidamente cambia la posizione nel tempo dx è lo spostamento infinitesimo del vagone o della spira nel tempo, cioè in un intervallo infinitamente piccolo. Perciò sostituiamo dx su dt alla velocità nell'espressione, nella formula della velocità che era V uguale V0 e alla meno KT. Al posto di V mettiamo dx su dt, separiamo le variabili, perché anche questa è un'equazione differenziale di primo ordine a variabili separabili. Quindi portiamo dt dall'altra parte, integriamo a destra e a sinistra, facciamo l'integrale definito o in particolare a destra per il tempo che va da 0, il momento dell'ingresso della spira nel campo B. 0 fino a T, istante generico, mentre il vagone sta camminando dentro il campo B. E di conseguenza gli estremi di integrazione a sinistra saranno la posizione all'inizio che poniamo uguale a 0, perciò immaginiamo che la posizione 0 sia l'inizio del magnete. e la posizione X sarebbe la posizione dove è arrivata la spira all'istante T. Per integrare qua a destra faccio comparire il differenziale di meno KT, dividendo per K e inserendo questo segno meno. Così ottengo la funzione integranda, ottengo il differenziale di E alla meno KT. Perciò devo semplicemente calcolare la funzione E alla meno KT tra T uguale a 0 e T. E a sinistra invece ottengo X, semplicemente X meno 0, quindi X. Quando vado a sostituire gli estremi di integrazione, trovo E alla meno KT meno E alla meno K per 0, quindi E alla 0 cioè 1, quindi E alla KT meno 1. Perciò ho trovato la formula che mi dice, l'andamento che mi dice, la posizione del vagone della spira in ogni istante. Questo andamento esponenziale è un esponenziale crescente che tende asintoticamente a questo valore che qui ho chiamato X segnato, ma è V0 su K. Questo significa che la spira, mentre rallenta, perde velocità, continua sempre a spostarsi in avanti, quindi procede a destra, ma lo fa sempre più lentamente e tende a fermarsi asintoticamente in un punto che si trova a distanza V0 su K rispetto all'inizio del magnete. Questo è l'andamento, questa curva nera è l'andamento della posizione della spira o del vagone, più precisamente della faccia anteriore del vagone, in funzione del tempo. Il tempo scorre qua. È la stessa immagine di prima, dove si vede il vagone che rallenta, intanto che attraversa il magnete permanente. Adesso vado a ruotare questa figura di 90 gradi, cosicché l'asse dei tempi comparirà in orizzontale e invece l'asse che prima compariva in orizzontale, cioè le posizioni, compariranno in verticale. Ecco qua la figura ruotata, adesso la ingrandiamo e vediamo che qui sono riportate le varie posizioni del vagone. Il vagone arriva di modo rettilineo uniforme, con velocità 20 cm al secondo, rallenta e quando arriva qui esce dal magnete. La posizione di questo vagone quindi aumenta dal valore 0, che è qua all'ingresso del magnete, si sposta in avanti. E questa curva nera è l'esponenziale crescente che abbiamo appena ricavato. È un andamento esponenziale che tende asintoticamente a un valore limite che è x segnato, cioè v0 su k. Perciò questa curva esponenziale tende a schiacciarsi poi su questo asintoto. In realtà questo non accade perché il magnete non è infinitamente lungo, ma è lungo solo 5 cm. Quindi questo esponenziale a un certo punto smette di essere un esponenziale e torna ad essere invece un tratto obliquo di retta. Infatti la retta rappresenta il modo rettilineo uniforme. Questo è il modo rettilineo uniforme d'uscita con velocità v1. Questo invece, questo altro tratto sempre colorato in nero, dove c'è scritto v0, è il modo rettilineo uniforme di ingresso, cioè prima che il vagone entrasse nel magnete. Come si vede, era maggiore la pendenza di questo tratto diretta perché il vagone andava più veloce, 20 cm al secondo. Quando invece esce qua, va più piano e il tratto diretto è meno inclinato, c'è meno pendenza, meno coefficiente angolare. Questo x segnato è quindi la posizione limite, cioè se il magnete si estendesse fino all'infinito, il vagone non arriverebbe all'infinito, ma rallenterebbe fino a raggiungere asintoticamente, cioè a fermarsi in questa posizione x segnato, in questo modo qua. Cioè si fermerebbe qua, riprendendo l'immagine di prima, rallenta e si ferma qua. Noi dovevamo rispondere alla domanda quanto tempo impiega la spira a attraversare completamente il magnete. Il tempo richiesto è t' cioè il tempo che ci vuole affinché questa posizione, che è riportata in verticale, raggiunga la fine del magnete, cioè raggiunga il valore L. Perciò il vagone avanza e all'istante t' avrà percorso una lunghezza pari a L, che è questa. Per ricavare t' dobbiamo quindi porre x uguale a L. x è la posizione raggiunta. Poniamo quindi x uguale a L nella formula che abbiamo trovato prima, che ci dà la posizione raggiunta in funzione del tempo. La nostra incognita è t''. Qui ho usato tau, qua k, ma tanto è la stessa cosa. Dobbiamo ricavare t''. Quindi prima isolo e alla meno k t'', con semplici passaggi algebrici. Poi passo ai logaritmi, al logaritmo naturale, in modo da tirar giù questa incognita t'' che compare all'esponente. Quindi questa è un'equazione esponenziale. A questo punto, applicando i logaritmi, ottengo questa equazione lineare, è facile ricavare t'' e poi sostituire i valori numerici. k l'avevamo calcolato prima, L sono 5 cm, sarebbe lo spazio percorso dal vagone x uguale L. E v0 era 20 cm al secondo, quindi il risultato è circa 0,33 secondi. Questo è il tempo che impiega la spira ad attraversare tutto il magnete. E questo tempo serve a calcolare la velocità d'uscita. Infatti adesso andiamo a sostituire questo tempo t'' dentro la formula della velocità, che era questo andamento esponenziale decrescente, quindi al posto di t mettiamo questo valore qua, questi secondi, che è il tempo d'uscita, o meglio il tempo di attraversamento del magnete. Sostituendo i valori, otteniamo circa 11 cm al secondo, vuol dire che il vagone è entrato con 20 cm al secondo ed esce con 11 cm al secondo. È la situazione descritta prima, il vagone entra con 20 cm al secondo, rallenta, intanto continua a spostarsi sulla destra, quindi attraversa tutto il magnete e percorre 5 cm. Alla fine dei 5 cm percorsi sono passati circa 0,333 secondi e la velocità è diminuita a 11 cm al secondo.